Dal 10 al 23 giugno a Taranto sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2020-2021 alla frequenza negli asili nido comunali per i soli minori riconfermati, coloro che hanno frequentato l'asilo nido nell'anno scolastico precedente. I modelli di domanda per la riconferma sono disponibili sul sito del comune di Taranto. A comunicarlo è la direzione pubblica istruzione. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online agli indirizzi e-mail dell'asilo nido frequentato. Stante la situazione pandemica, le nuove iscrizioni sono rinviate a data da destinarsi in attesa di conoscere le specifiche disposizioni legislative che verranno adottate dal governo, nonché il numero effettivo dei bambini ammessi al servizio e le eventuali cautele di frequentazione. Per il minore riconfermato invece il genitore dovrà formalizzare la propria accettazione con il pagamento della tassa di iscrizione di 20 euro a mezzo conto corrente postale. L'attestazione di avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda di riconferma. Il mancato pagamento costituirà rinuncia alla frequenza. L'amministrazione in ogni caso si riserva di attivare il servizio in tutte le strutture in funzione del numero di domande pervenute e alla effettiva disponibilità di utilizzo delle stesse.